Chi sei e cosa fai? Mi chiamo Lorenzo e faccio il programmatore in Develer. Nome con il quale ti chiamano Develeriani? Rugginoso. Una parola per descriverti? Simpatico. Cosa non deve mancare mai quando programmi? Il computer. Il tuo talento nascosto? Nessuno, perché sono tutti pubblici. Cosa fai nel tuo tempo libero? Vado soprattutto in moto, ai concerti e al pub. Oltre a programmare, in quale altro modo ti diverti in Develer? Soprattutto stando insieme ai colleghi, nelle pause, a parlare di vari argomenti, soprattutto di programmazione. Una skill che ti piacerebbe imparare? Sapere tutte le lingue. Il progetto preferito su cui hai lavorato? Un sistema di controllo per i radar. L'eroe che ami di più? Wolverine. L'aspetto migliore di lavorare con Develer? La libertà. Per esempio, ieri era una bella giornata e ho potuto prendere un giorno libero per fare un giro in moto. Cose che la gente non conosce di Develer, ma che dovrebbe conoscere? L'ambiente, perché è stimolante. Cosa ami di più dell'essere un Develeriano? I colleghi. Ruggi ieri e ruggi oggi? Ruggi ieri, laureato in tecnica di radiologia, ruggi oggi, programmatore. Le prime tre canzoni della tua top ten musicale? I've got my mojo working, The Waters, Hammer Smashed Face, The Cannibal Corpse, e On the Road Again, The Cannabis Heat. Ce ne canticchi una? No, perché sono stonato. Il tuo sogno nascosto? Diventare ricco. Il ricordo più bello che è di Develer? Una volta in cui siamo rimasti bloccati in ufficio perché aveva nevicato. Come hai scoperto che la programmazione sarebbe stata la tua passione? La prima volta che ho provato a programmare ho visto che il computer faceva quello che volevo e da lì mi ha iniziato a interessare. Campeggio o hotel a 5 stelle? Tutti e due, dipende dall'occasione. La più grande avventura mai fatta? Il primo viaggio lungo che ho fatto in moto che ci è voluto tantissimo per arrivare a Parma. Un consiglio per qualcuno che ha appena iniziato a programmare? Insistere, non fermarsi alle prime difficoltà, informarsi e continuare a insistere. Completo la frase, Develer è? Un bel posto. Un Saluto Un Saluto Un Saluto Grazie a tutti.